Arezzo, capitale della fotografia d'epoca, domenica 28 aprile, torna infatti Foto Antiquaria, la storica mostra mercato che ormai da 34 anni è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Ideata e fatta crescere da un enorme lavoro svolto sinora dal fotoclub La Chimera di Arezzo, la manifestazione, quest'anno giunta la sua 67esima edizione, per la prima volta sarà organizzata dalla Fondazione Arezzo in Tour in collaborazione con Confartigianato. Dalle 9 alle 18 le loggie vasari in Piazza Grande accoglieranno dunque oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d'Italia. Sarà possibile così acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali, usate o fuori produzione, e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire così la propria collezione o per riparare un'antica fotocamera. Ad arricchire la manifestazione anche la mostra Arezzo Ieri di fotografie storiche allestita nella sede del fotoclub La Chimera che si trova sotto le loggie vasari. Tra le iniziative collaterali anche lo shooting fotografico di gruppo con una modella professionista. Per l'occasione in Piazza Grande arriveranno anche le auto d'epoca con un'esposizione curata da Beppe Marconi. Come sempre l'iniziativa sarà seguita dalle telecamere di Arezzo TV e trasmessa in diretta.